La Toscana dovrebbe passare in zona bianca soltanto dal 21 giugno. Sarà tra le ultime regioni ad essere promossa. Dati alla mano sono 301 i nuovi casi di coronavirus registrati nella nostra regione nelle 24 ore con un tasso di positività dell'1,52%. Intanto va avanti la campagna vaccinale. Ad oggi in Toscana sono stati somministrati 2.016.303 vaccini. Da 1 giugno si apriranno le prenotazioni per i trentenni. Ogni giorno alle 17 toccherà un biennio, partendo dai nati negli anni 1982-1983. Mentre dalla settimana successiva, il 7 giugno, toccherà i ventenni. Anche se dal 3 giugno, con tutta probabilità, spariranno le classi d'età e tutti potranno aderire alla vaccinazione. Lo stesso giorno, il 7, cominceranno a vaccinare anche le aziende private. La Toscana ha meno vaccinati rispetto alla media italiana. Siamo al terzultimo posto davanti solamente a Calabria e Sicilia, con il 35,3% della popolazione che ha ricevuto almeno la prima dose su una media nazionale del 36,4%. Evidentemente, nella ripartizione delle quote, ci arrivano meno vaccini, visto che ora ne è stato utilizzato il 91%. Grazie a tutti.